Spagna, dopo Valencia la dana colpisce anche Barcellona, pista dell'aeroporto e strade di collegamento allagate, 100 voli cancellati o dirottati, stoppa i treni. Giornata delle forze armate, il presidente Mattarella all'altare della patria cita militari italiani in missione ONU in Libano, Italia paese coiso e ispirato ai valori della pace. Eurozona, l'indice PMI manifatturiero a ottobre cresce di un punto, slancio della Germania che guadagna 2,4 punti, Italia in affanno scende oltre le stime a 46,9. Elezioni presidenziali USA, domani il D-Day, Trump-Harris a rush finale, i due candidati testa a testa negli stati chiave, 77 milioni di elettori hanno già votato. Alice Magazine, in distribuzione online in edicola il numero di novembre, focus sulla rilezione di Guido Grimaldi alla presidenza di Alice. Grazie per la visione!